Amici, miracolo di venerdì 16 agosto, sembra che finalmente siamo riusciti in una vera e propria impresa, quella di rifilare a qualcuno Maras Cumbulla, veramente un'operazione comprivatissima, sembra che finalmente si riesce a dare in prestito, figuriamoci se lo compravano, all'Espagnola, Cumbulla quest'anno ha giocato nel Sassuolo, come sapete con scarsi risultati, in prestito anche in quell'occasione, Maras Cumbulla non me ne voglia, io voglio bene, ma è veramente uno di quegli esempi dei disastri che sono stati compiuti in questi anni da queste dirigenze, da queste proprietà che purtroppo mi rendo conto, comincio a rendermi conto sempre di più, forse l'ho capito anche prima degli altri, abbiamo sopravvalutato, potrei fare anche un altro nome che spesso dimentico perché è stata una meteora di dimensioni tali che in un certo senso l'abbiamo anche rimosso, ma anche l'esempio di Reynolds dell'americano, l'esterno destro Reynolds che era poco più di un giocatore della primavera, un giocatore come Vigna, se ne sono viste veramente di tutti i colori, ma Cumbulla è proprio il giocatore che si fa anche fatica a vederlo in Serie A, lui può giocare in una squadra come poteva essere anche quel Verona in cui giovanissimo si mette in luce più che altro per la sua stazia fisica, in una squadra che difendeva molto, che spesso difendeva anche lo 0-0, quindi stava tutta arroccata in difesa, e lui ha un piede molto ruvido, veramente poco educato, spingeva dei palloni di testa, era ancora molto giovane, si è preso una cantonata incredibile. Io saluto con grande positività il fatto di liberarci di queste giavorre perché sono giocatori che proprio non possono stare in una squadra che ha un minimo proprio di ambizione, lo dico con grandissimo rispetto per il protezionista che mi risulta essere anche una persona che ha una buona considerazione, di cui c'è una buona considerazione nello spogliatoio, c'è anche un ragazzo simpatico, però la realtà è questa. Poi risulta anche, sempre stando alla Roma, l'interessamento per Edoardo Bove, non solo della Fiorentina, ma anche dell'Everton, che stanno valutando la figura di Edoardo Bove, che bisogna prenderne atto, è un giocatore che De Rossi non vede, non vede proprio assolutamente nel gioco che lui ha in testa. Io il gioco che ha in testa De Rossi, anche in funzione dei giocatori che sta prendendo, ho capito quale vorrebbe il gioco che lui vorrebbe fare, più che vuole fare, e non è nemmeno vero come qualcuno diceva che lui aveva in testa una squadra con un falso nueve, che no, lui non voleva un falso nueve, lui voleva un giocatore alla Lukaku, il giocatore alla Lukaku gli stava benissimo, lui vuole invece due esterni molto veloci, che strappano, che scappano all'avversario, la mettono in mezzo, o sul primo palo, diciamo, cioè scusate, a centro area per il centravanti, in questo caso Dobbic, o indietro per l'inserimento, diciamo, di Pellegrini, chi sarà Baldanzi, io mi auguro che sia Di Bala, per tentare la conclusione, prendendo in controtempo i difensori. Questo è il gioco di De Rossi, che farà, vuole fare, possesso palla, però intenso, a una certa velocità, non il possesso palla un po' lento, diciamo, e con rilievo per queste ripartenze dal basso, che io non sopposto, ve lo dico po' chiaramente, cioè per me le ripartenze dal basso sono proprio l'anticalcio, ecco, ve lo dico proprio sinceramente, al di là del fatto che mettono in evidenza anche le qualità tecniche, magari del portiere, con i piedi, ma per me l'anticaccio, oltre a una giocata, secondo me, è inutile, sostanzialmente non ho più i rischi che i vantaggi, e la trovo tremendamente noiosa, soprattutto. Per quanto riguarda, invece, l'affaire Paolo Di Bala, in questi giorni sembra che l'argentino, nella grande confusione che è maturata in queste ore, in questi giorni, che sinceramente ci sta creando, direi, un malessere quasi fisico, Di Bala sta riflettendo, sta riflettendo, ma è chiaro che lui oggi è consapevole che non è più un giocatore considerato di prima importanza per questa squadra, quindi io credo che sia ferito anche nell'orgoglio. Al netto dell'errore, lui, come più volte ho sottolineato, ha commesso di interrompere la preparazione per andare a sposarsi in Argentina, è una cosa che, tra l'altro, è proprio la società che non doveva permettere. Ma oggi questo giocatore, quest'uomo, si sente ferito e offeso nell'amor proprio perché si sente anche poco apprezzato, svalutato. Però la novità di oggi è che la moglie, Oriana Sabatini, conosciuta da Di Bala a Torino, quando era la Juventus, non è che sia proprio molto propensa ad andare in Arabia Saudita perché giustamente dice, certo, certo, i soldi, ok, ma alla fine i soldi non gli mancano a questi, assolutamente, la loro vita ormai sarà so bella che è sistemata. Quindi ho capito, i soldi però, e l'Arabia Saudita, quindi nascono questi problemi, i figli, come si troveranno in Arabia Saudita, le scuole, come saranno, eccetera. Cioè ti devi integrare comunque in un mondo che anche dal punto di vista religioso, tra le altre cose, è completamente diverso, con delle normative diverse. Quindi a me risulta che la moglie non è affatto entusiasta. Poi se ce dovrà andare ce va, ma non è, sapete che chiaramente tante volte i trasferimenti dei giocatori sono stati anche, tra virgolette, se non proprio decisi, ma anche orientati, almeno orientati dalle consorti, come è inevitabile che avvenga per tutti noi. Lo stesso Ebram sembra che il secondo anno sia entrato in crisi, proprio perché ha avuto delle problematiche con la sua fidanzata che non si trovava tanto bene a Roma, aveva delle problematiche, quasi quasi si stavano lasciando, è entrato un po' in tilt in quel periodo Ebram. Sarà vero, non sarà vero, come si dice, Vox Populi, Vox Dei. Altra voce che gira, questa non ho però molte conferme, è diciamo più un rumor ancora, anche che questo nome è già stato accostato alla Roma, è quello di Edon Zegrova, giocatore costovaro esterno che potrebbe, secondo alcuni, arrivare alla Roma se Ove Di Bala partisse per l'Arabia o per qualche altra destinazione. Poi c'è anche Rebus a questo punto Chiesa, Federico Chiesa messo praticamente fuori squadra dalla Juventus, si allenerà praticamente con la Primavera, che anche lui, secondo alcuni a questo punto, se Di Bala andrà via, comincia a valutare anche la possibilità di arrivare alla Roma perché altrimenti rischia di stare sei mesi fuori squadra e poi magari di andare a gennaio, non so, in quale altra squadra, non so, il Napoli, il Milan, adesso non so quale potrebbe essere l'altra squadra, quindi c'è anche questo Re Buschieta che secondo me in queste state è stato molto mal consigliato perché lui non ha consapevolezza, coscienza di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto in questi tre anni, chiesa grande protagonista della vittoria della nazionale azzurra agli europei, all'europeo itinerante con Mancini in panchina, poi però ha problemi fisici e viene da alcune stagioni deludenti, problematiche, con un europeo, soprattutto un europeo pessimo con la maglia azzurra, questa volta sotto la guida di Spalletti, sulle qualità, sulla forza, sull'utilità tattica, sulle qualità anche tecniche di Dybala io non ho, scusate di Chiesa, non ho alcun dubbio, anzi lo considero un giocatore fortissimo, se sta bene fortissimo che ci farebbe fare anche un salto di qualità sotto un certo punto di vista, tra l'altro credo che una coppia a destra sulle Dybala a chiesa a sinistra e se avessimo tenuto, se terremo Dybala dietro la prima punta che sarebbe in questo caso Dobbic, secondo me sarebbe un signor attacco, quindi aspettiamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, andando intanto ad approcciare questa gara di campionato che chiaramente sarà un po' problematica contro il Cagliari in mezzo a tutte queste polemiche, una squadra ancora da terminare nella tua costruzione, il Cagliari stava vedendo la formazione, è una squadra che ha una difesa veramente vulnerabile, lo abbiamo maltrattato nonostante la presenza in panchina di un uomo allenatore spetto come Claudio Ranieri nella scorsa stagione sia l'andata che il ritorno, questo è un altro Cagliari ma il livello dei giocatori è quello, più o meno, però ha alcuni elementi offensivi che possono comunque dare fastidio, c'è il Pavoletti che ti spitta una palla di testa su un cross, lo stesso Piccoli che è un giocatore fisicamente prestante che comunque su un calcio d'angolo può farsi valere, poi c'è questo Lucumbo che è un po' una scheggia impazzita che però non bisogna concedergli troppo spazio perché comunque ha molta esplosività, molta velocità e molte volte tenta anche delle soluzioni impreviste, tira da tutte le posizioni, a volte gli va anche bene e poi c'è anche la Padua se non sbaglio in panchina con un altro giocatore che comunque pur non essendo un fenomeno è un uomo che in area di rigore è un bel rompicoglioni secondo me, quindi la Roma che sta ancora per essere appunto conclusa, terminata, non deve commettere l'errore di pensare di andare a Cagliari a fare una passeggiata perché è più forte tecnicamente e su questo non ci sono dubbi, l'avversario va invece affrontato con grande umiltà e concentrazione, attenzione, se noi metteremo in campo queste qualità sicuramente torneremo a Roma con i tre punti e cominciare con una vittoria in traffetta questa stagione andando poi ad approcciare la prima partita interna contro l'Empoli, credo che potrebbe essere in questo momento così delicato con la tifoseria in ebollizione, oggi appasso una scritta a Tricoria sui muri, Paolo non si vende, ormai c'è un muro contro muro anche fra tifosi e società perché la cessione di ribala sarebbe una coltellata ragazzi al tradimento a pochissimi giorni dall'avvio della stagione ufficiale con tutti questi abbonati che hanno rinnovato la loro fiducia cacciando i soldi per parlare chiaro al buio senza manco sapere quale squadra avrebbero avuto e poi si ritrovano a due giorni dall'inizio del campionato magari o addirittura dopo l'inizio del campionato un di bala che se ne va in rabbia ragazzi è una cosa veramente insopportabile insopportabile e anche sotto certi punti di vista incommentabile io continuo a dire faccio continuo a far girare questa idea se di bala partirà nei prossimi giorni o comunque se sapremo ufficialmente di andare in rabbia noi nella prima partita interna utile che dovrebbe essere Roma-Empoli o comunque quella successiva se di bala dovessi partire dopo perché c'è tempo comunque fino al 31 agosto per chiudere il calcio mercato la curva sud in Roma-Empoli alla lettura delle formazioni si deve mettere di spalle al campo non deve non tifare non andare allo stadio abbandonare lo stadio dopo un quarto si deve mettere di spalle al campo e deve fischiare quando viene letto il nome di Daniele De Rossi perché gli altri giocatori non c'entrano niente in tutta questa situazione perché Daniele De Rossi che si doveva mettere di traverso in questa situazione doveva andare dai freaking e dire raga io qua a Ferragosto sto ancora aspettando che mi arriva al terzino destro al centrocampista l'esterno sinistro il vice Dobbic io sto ancora lavorando con i giovani con gente che sta per partire in prestito me volete portare anche via l'unico giocatore forte che abbiamo ma io non posso fare il parafulmine di qualsiasi cosa dentro questa squadra questa ho dovuto fare io non ne voglio sapere di sentire che di bala se ne va se di bala se ne va devo purtroppo prendere delle le anche tirare le somme e fare delle considerazioni perché io qua mi sto giocando la faccia e la carriera a casa mia davanti ai miei tifosi ai tifosi che mi hanno amato e rispettato per un'intera carriera io non posso allenare la Roma senza essere messo nelle condizioni di ben figurare di essere competitivo questo avrebbe dovuto dire Daniele De Rossi se ne è ben guardato e invece ha detto chiaramente a di bala guarda su lei mi ha fatto un'ottima impressione in questo precampionato sto pensando di darti meno spazio di ritagliati un ruolo diverso del tempo e anche accomodare qualche volta in panchina magari puntiamo molto su su lei che è giovane eccetera quindi questo comportamento immagino penso a tutti i papà che hanno speso dei soldi per comprare magari le magliette ufficiali di di bala al proprio figlioletto il giorno dopo dell'arrivo di di bala a Roma come si sentono in questo momento i padri e anche soprattutto questi bambini che vengono traditi nei loro sentimenti e nella fiducia che hanno riposto in questa maglia grazie grazie